Ciao cari amici, ieri il giornalista statunitense Tucker Carlson, probabilmente voi lo ricordate per la famosa intervista a Vladimir Putin, un'intervista che sicuramente ha cambiato il corso della nostra storia moderna, io ho spiegato anche più volte il perché è stata così importante, attraverso questa intervista Vladimir Putin è riuscito a comunicare al pubblico occidentale soprattutto al pubblico del paese dove domina l'origarchia anglosassone, cioè alle Stati Uniti d'America ma anche a tutto il resto del mondo occidentale, Putin ha riuscito a comunicare tutto quello che per anni è stato diciamo nascosto, strumentalizzato, censurato da mainstream ufficiale dell'Occidente è un'intervista che ha fatto esplodere diciamo quella che è la base della propaganda occidentale per questo rimane un'intervista sempre da vedere, da rivedere, da riascoltare perché all'interno ci sono molte cose, molte basi per processi che noi dobbiamo ancora vedere a cambiare il nostro mondo, quindi è un'intervista importantissima Tucker Carlson è dimostrato di essere in questo particolare caso un giornalista molto aperto anche se lui se stesso non chiama giornalista e va benissimo, io lo capisco, comprendo perché soprattutto negli ultimi tempi il giornalismo purtroppo è diventato un sinonimo di qualcosa di corrotto di una condotta amorale e mi dispiace per molti onesti giornalisti che ci sono io spesso mi capita di parlare male dei giornalisti italiani ma anche nel mio comportamento io mi rendo conto che c'è estremismo perché in Italia ci sono parecchi giornalisti che invece meritano di essere premiati e rispettati per il loro coraggio, per la loro capacità di comunicare di andare controcorrente anche in una situazione così difficile e dal mio punto di vista posso solo ringraziare queste persone e a pensare non sono neanche pochissimi a volte mi capita di dire ma ci sono giornalisti che possono essere contati sul palmo di una mano e ovviamente in questo io sicuramente sono estremista in realtà ci sono molti più di giornalisti onesti il problema è che a loro non danno la voce li lasciano sempre fuori da grande corrente del mainstream è molto complicato vedere questi giornalisti a condividere la propria opinione durante i programmi di maggior ascolto in Italia questi giornalisti sono costretti o a lavorare con i canali di controinformazione con qualche compagnia secondaria e così via però ci sono, io ieri ad esempio sono stato in diretta a Visione TV e c'era un giovane bravissimo ragazzo io ogni volta quando lo ascolto mi rendo conto che grazie ai ragazzi come lui forse Italia ha un po' di futuro diciamo lui adesso si trova a Mosca spesso io seguo qualche suo intervento si chiama Andrea Lucidi sia su Medio Oriente sia sulla situazione in Russia è un giornalista che veramente si occupa dell'informazione cioè uno che evidentemente cerca di essere obiettivo, onesto ovviamente rimanendo sempre una persona perché comunque nelle situazioni del genere è molto complicato riportare le notizie in maniera distaccata però lui riesce io sempre quando anche capito nelle trasmissioni dove lui è presente lo ascolto con molto interesse comunque cari amici, Tucker Carlson tornando al tema di questo video Tucker Carlson ha registrato un'intervista molto interessante a Pavel Durav, Pavel Durav è un ragazzo russo un giovane russo che è stato creatore del social network russo molto importante che si chiama Vkantaktie è uno dei diciamo più importanti social network in Russia insieme con Adnaklasniki Vkantaktie è una specie di Facebook russo così lo chiamano adesso è un social network molto diffuso ci sono molti iscritti so che anche tantissimi italiani sono iscritti io ho una mia paginetta però non la curo diciamo con in maniera particolare ho amici sia russi che italiani che sono iscritti ma ogni tanto pubblico qualcosina senza diciamo dedicare molto tempo a questa struttura comunque è una struttura valida una struttura che funziona che è stata creata nel 2006 e ovviamente ha sconvolto il mondo dei social network russi perché è stata un'ottima alternativa ai social network occidentali a stesso Facebook e così via e Pavel Durav ha raccontato una cosa molto interessante a Tucker Carlson in pratica loro hanno iniziato a parlare della situazione che vive Pavel Durav perché Pavel Durav ha dovuto andare via dalla Russia e lui ha raccontato che in effetti diciamo dopo la creazione di social network Fkantakti quando questo social network è diventato uno social network maggioritario sullo spazio dell'ex Unione Sovietica non solo in Russia ma anche nei paesi dell'ex Unione Sovietica come stessa Ucraina, Moldova, Bielorussia paesi baltici, paesi asiatici tutti loro usano questo social network per comunicare a tantissimi utenti nel 2011-2012 ha raccontato Pavel Durav la posizione russa ha iniziato a utilizzare questa piattaforma per coordinare le manifestazioni e ovviamente lui creatore e gestore di questa piattaforma è stato subito contattato dalle autorità russe ovviamente si tratta di servizi segreti perché in Russia di questo si occupa sicuramente l'FSB e quindi loro hanno contattato Pavel Durav e hanno chiesto a lui di rimuovere i gruppi di opposizione russa e Durav personalmente non si schierava lui tra l'altro è abbastanza leale con la Russia di oggi lui non si è schierato contro l'inizio di operazione militare speciale lui non ha fatto delle dichiarazioni antiputiniane mai però lui ha detto io capisco che io sto gestendo un social network che deve dare la possibilità a tutte le persone di esprimersi quindi io non posso prendere posizione e agire da colui che ha in mano uno strumento di informazione o di manipolazione politica cioè io devo dare la possibilità alle persone di agire in base a ciò in cui loro credono questa cosa ovviamente non è per niente piaciuta alle autorità russe quindi nel 2013 quando sono iniziate le proteste su larga scala organizzate dall'Occidente in Ucraina diversi strumenti di diciamo politica di influenza politica occidentali hanno coinvolto in questa preparazione della situazione in Ucraina del colpo di stato in Ucraina hanno coinvolto anche la piattaforma creata da Pavel Durov Vkontakti e le autorità russe hanno chiesto di nuovo a Durov di fornire le informazioni sugli organizzatori di queste azioni cioè organizzatori occidentali e ucraini e anche in questo caso Durov ha provato a spiegare a quelli dell'FSB ha detto guardate che si tratta di cittadini di un altro paese in più diciamo io non voglio come dire tradire gli utenti ucraini solo perché nel loro paese c'è questa situazione bisogna trovare altri strumenti perché non è non è coerente utilizzare la piattaforma che deve essere libera come uno schedario di probabili terroristi o chiunque altro cioè usate altre piattaforme per questo usate altri metodi ha detto Pavel Durov ovviamente in questo la sua opinione era molto in contrasto con quella che era ovviamente la necessità del governo russo in questo caso cari amici è molto importante sapere che Durov a mio avviso si è comportato veramente da una persona moralmente impeccabile cioè lui ha difeso fino in fondo quella che dovrebbe essere la più importante il più importante criterio di un social network cioè la libertà totale dell'opinione ciò che uno vuole pubblicare lo pubblica senza ovviamente nei limiti dell'etica e della morale importante che non siano pubblicati i contenuti non so pedopornografici per dire però se uno esprime la propria opinione politica se uno esprime la propria visione della storia non può essere attaccato maltrattato non può essere in nessun modo limitato nella propria espressione questa è la base di ciò che dovrebbe essere un comportamento democratico e dall'altro canto però ci sono gli interessi dello Stato e quando questi interessi dello Stato è chiaro vengono portati avanti dai rappresentanti dello Stato è chiaro che anche loro hanno la loro ragione quindi loro dicono tu Pavel Durov hai la tua verità le tue ragioni noi però abbiamo la nostra verità e le nostre ragioni e quindi loro si sono trovati controposti alla fine dell'anno diciamo del 2013 quando la situazione in Ucraina precipitava e le pressioni diventavano sempre più forti su di lui lui ha detto che a lui è rimasta una scelta o seguire le istruzioni delle autorità russe oppure vendere la sua partecipazione al Fkantakti a questa social network e abbandonare diciamo questa questo incarico e andarsene da questa situazione e lui ha scelto l'ultimo diciamo lui ha preferito di perdere la sua creazione pur di evitare di comportarsi contro quella che era la sua visione contro quello che era la sua morale e Duraf ha definito in questa intervista doloroso il processo di espulsione dal Fkantakti ha detto che questo social per lui era come il suo figlio lui è dedicato molto tempo e fatica per crearlo per promoverlo per svilupparlo ha detto che diciamo che ha capito all'epoca che stava lasciando una vita che era anche molto comoda agiata però ha detto che lui ha scelto di tuffarsi nella situazione più libera dove avrebbe potuto creare qualcosa di diverso in effetti è stato creato Telegram e adesso tra l'altro lui ha anche affermato che ci sono molti pressioni su di lui adesso dall'altra parte adesso lui vive a Dubai gestisce la piattaforma Telegram e contro di lui c'è tutto il mondo occidentale perché dicono che Telegram è uno strumento dello Stato russo e lui ha già ricevuto diverse proposte dei rappresentanti dell'Occidente che le hanno proposto di acquistare Telegram di intervenire in modo diverso insomma su Telegram lui rifiuta tutte queste cose lui dice che questo fa parte di una tecnica per screditare la sua applicazione presso i concorrenti che temono la crescita dell'applicazione delle sue prestazioni soprattutto grazie a una politica di veramente di libertà e di democrazia e della possibilità di espressione che lui dà a tutti in effetti Telegram oggi io non è per niente il mio canale privato si trova su Telegram e non su un'altra piattaforma mentre Facebook mi ha bloccato democraticamente e tra l'altro fa veramente ridicolo che contro di me su varie piattaforme occidentale come ad esempio Facebook ma anche qua su Youtube agiscono delle persone che non condividono la mia opinione che sostengono magari il nazismo ucraino che sostengono la guerra che vorrebbero vedere la Russia messa K.O. in difficoltà ovviamente a loro non piace ciò che io divulgo non piace il mio punto di vista e loro non rispettano il mio punto di vista non rispettano la mia libertà di esprimere ciò che io penso loro trattano lo spazio che dovrebbe essere libero come un campo di battaglia e quindi qua su Youtube io vengo segnalato se voi guardate quando io ho aperto il canale i miei video avevano anche fino a 60 70 mila visualizzazioni in un solo giorno adesso io ho una diciamo visibilità molto limitata proprio perché sono sempre segnalato da questi personaggi i miei video non appaiano nel motore di ricerca come apparivano prima alcuni video vengono bloccati alcuni vengono eliminati addirittura io ho dei limiti nella creazione dei miei video io ad esempio non posso all'interno dei miei video esporre altri video o altri materiali e non posso neanche mettere all'interno dei link o delle scritte o qualcosa del genere perché se io non so se esiste non sono specialista quindi non so se esiste qualche algoritmo che riesce a leggere queste cose però appena io carico un video con qualcosa all'interno soprattutto nell'ultimo periodo di tempo io vedo subito che il mio video o viene cancellato oppure non raggiunge diciamo alti numeri i suoi normali numeri e questo è proprio perché c'è un gruppetto dei chiamiamoli squadristi dell'informazione o della disinformazione qua su youtube ma anche su altri canali che ovviamente agiscono senza rispetto verso la libertà della parola verso così tanto decantata democrazia che loro stessi sempre dicono affermano di difendere e poi in realtà non lo applicano mai anzi si comportano come perfetti nazisti se avrebbero potuto secondo me prendere e aprire i cancelli dei campi di concentramento per eliminare tutti quelli che pensano diversamente da loro l'avrebbero fatto il problema è che non hanno ancora i mezzi però sono queste le persone che quando avranno abbastanza potere faranno il peggio del peggio contro chi pensa diversamente ecco unico luogo ad esempio in cui io adesso posso comunicare liberamente pubblicare tutto quello che ritengo necessario ritengo interessante è il telegram su altri canali è impossibile di farlo limitazioni ci sono ovunque anche su instagram che è ridicolo è una cosa dove pubblicano le cavolate di solito ci sono pochissimi canali seri comunque pure questi mi stanno limitando se qualcuno vuole ad esempio ripostare i miei post o le mie stories a loro esce fuori avvertimento che io sono quello che condivide le informazioni false e questo ovviamente è un esempio di come viene trattato una persona nello spazio libero nello spazio libero uno può fare quello che vuole se io condiviso le informazioni false va benissimo spiegate sul vostro canale che io condivido le informazioni false e lasciatemi in pace ma intervenire e limitare l'espressione di un'altra persona usando pretesto del fatto che lui ha condiviso una fake news o qualcosa del genere è la censura e quindi è inutile allora raccontare le balle a tutto il mondo che voi siete liberi che voi siete democratici se voi stessi applicate la censura se voi stessi giocate con il fake news con i vari fact checker giusto per creare una vostra linea narrativa difendere la vostra linea narrativa ed evitare la libertà di espressione degli altri comunque la l'intervista tra Tucker Carlson e Pavel Durof è molto interessante una cosa che mi è piaciuta è la anche conclusione di stesso Tucker Carlson che dopo aver parlato con questo giovane russo che ovviamente non ha le posizioni pro-putiniane anzi qua non parliamo della persona che sostiene l'intervento russo in Ucraina o almeno non dimostra di sostenerlo però una persona che si è comportata in maniera corretta a mio avviso ha cercato fare fronte al governo russo difendere dall'influenza del governo russo la propria piattaforma e poi alla fine quando ha capito che non può fare altrimenti se n'è andato ha abbandonato tutto pur di evitare di collaborare con il governo cioè lui non ha voluto collaborare con lo Stato perché lui nella sua etica indipendentemente dalle sue posizioni politiche nella sua etica nella gestione di social network preferisce di rimanere fedele al criterio della libertà di espressione e Tucker Carlson ha detto che quando il governo russo ha chiesto a Pavel Durav di utilizzare la sua società di media per censurare i suoi oppositori politici Durov ha rifiutato ha detto che preferirebbe andarsene dal paese in cui è nato piuttosto che prendere parte a qualcosa del genere ciò che poi alla fine lui ha fatto tale era il suo impegno per la libertà di parola sottolinea Tucker Carlson e poi conclude ora bisogna confrontare quello che ha fatto Durov con quello che ha fatto Mark Zuckerberg o Paraka Garwal il ragazzo che possedeva Twitter prima che Elon Musk lo acquistasse entrambi hanno collaborato con il governo degli Stati Uniti che ha censurato e perseguitato le persone e questo è semplicemente vergognoso ha finito il suo ragionamento Tucker Carlson quindi cari amici stiamo parlando di un tema molto importante perché ci coinvolge e ci guarda tutti noi tutti usiamo i social noi tutti cerchiamo di trovare un'informazione libera trovare i canali liberi dove poter esprimersi dove poter cercare una certa informazione e così come funziona il nostro modo di comunicazione ognuno di noi ha momenti della propria vita dove vuole magari condividere quello che gli piace e pare quello che secondo lui corrisponde a una situazione attuale ed è vergognoso che ci sono i meccanismi nei social occidentali che limitano questa libertà di espressione sottolineo io stesso personalmente anche qua sull'esempio con YouTube vi posso assicurare che non c'è su YouTube tutta questa libertà di espressione purtroppo mi dispiace io spero che i gestori di YouTube cambieranno questo atteggiamento non c'è questa libertà di espressione che c'è ad esempio su Telegram su Telegram tutto si base su vostri criteri personali su Telegram se io pubblico una cosa nessuno viene a cancellare il mio post a limitare il mio la portata della mia comunicazione a intervenire e di nascosto cancellare le iscrizioni dei miei iscritti al mio canale nessuno fa questi trucchi sporchi solo sui social tra virgolette dei paesi democratici esistono queste situazioni questo significa che Telegram attualmente è una delle strutture più libere libere dove si può esprimersi in maniera aperta quindi cari amici io vi invito di ragionare su questa situazione è molto importante e ovviamente sfrutto l'occasione come sempre per invitarvi a unirvi a me sul mio canale privato Telegram dove io condivido tantissime informazioni che purtroppo su mainstream occidentale vengono censurate strumentalizzate oppure completamente tacciute perché rappresentano probabilmente pericolo per la linea narrativa della propaganda di guerra della propaganda del dominio anglosassone quindi carissimi il link per abbonamento al mio canale privato Telegram troverete nella descrizione a questo video se invece siete interessati a sostenermi qua su YouTube io come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale di commentare i miei video condividere i miei video con i vostri amici vi ricordo che in tutte le librerie d'Italia c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio lo vedete qua alle mie spalle in questo libro ho raccontato le origini della guerra in Ucraina una guerra che ci riguarda tutti vi invito di approfondire la lettura e magari poi dopo fatemi sapere cosa ne pensate di questo libro e della situazione in generale vi ringrazio per la vostra attenzione vi ringrazio per il vostro sostegno vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene e vi voglio bene e vi voglio bene